La famosa attrice statunitense Melinda Dillon, che aveva ricevuto una nomination all'Oscar per il film di fantascienza Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg, dove era Julian Guyer, la mamma del bambino rapito dagli extraterrestri. È morta all'età di 83 anni a Los Angeles. La morte è avvenuta lo scorso 9 gennaio, ma la famiglia ne ha dato notizia solo ora. Grazie a tutti.